Francesco Cavallone si avvia a conclusione il mandato da Presidente della Comunità Montana, tre anni e mezzo circa molto intensi, qual è il suo bilancio? È stata sicuramente un'esperienza molto forte, impegnativa, sono stati tre anni e mezzo in cui sono state fatte tantissime cose alla Comunità Montana e sarebbe pur difficilmente descrivibile ciò che è stato fatto in pochi minuti, però credo che in questi tre anni e mezzo, e partiamo da Londano, da quando sono stato eletto nel gennaio del 2021, il primo grande risultato che noi abbiamo raggiunto è una coesione territoriale, perché siamo riusciti a creare le rappresentanze all'interno dei vari enti comprensoriali per tutte le singole cittadine del nostro territorio, proprio perché credo che un territorio debba essere amministrato in maniera coesionita da tutti i rappresentanti dei singoli paesi. Durante questi anni sicuramente, al di là di quella che è l'attività ordinaria della Comunità Montana, che riguarda la forestazione da un lato e una serie di competenze tecniche dall'altro, noi ci siamo concentrati su quella che è stata una novità per la Comunità Montana, che è stata il pilota per quanto riguarda la SNAI, la strategia nazionale delle aree interne, e quindi naturalmente si è messo in pratica ciò che ci era stato lasciato dalla precedente amministrazione, tutta questa serie di investimenti, di finanziamenti, di progetti che sono stati messi in atto. Siamo intervenuti nel sociale, con il taxi sociale, che credo sia stata una grandissima opera a favore dei cittadini, taxi sociale che veniva incontro alle esigenze di persone che avevano difficoltà di mobilità, non solo per recarsi a fare qualche visita medica ospedaliera, ma anche eventualmente per recarsi a fare una spesa oppure qualche altro servizio che possa riguardare la quotidianità delle persone. Si è intervenuto nell'ambito della cultura, si è intervenuto nell'ambito della digitalizzazione, perché credo che sia molto importante mettere in rete i comuni della Comunità Montana per avere un servizio più efficiente, soprattutto c'è stato un grosso intervento nell'ambito del turismo, crediamo che in questi anni abbiamo esportato il nostro marchio di fuori anche dei confini regionali, abbiamo partecipato a tanti eventi, a Pesto, Mannapoli, alla Fiera di Rimini, credo che sia stato fatto un grandissimo risultato e a tal riguardo voglio ringraziare la mia squadra, nello specifico ringrazio l'assessore Antonio Pagliarullo che sicuramente ha fatto un lavoro molto importante in questo campo, come voglio anche ringraziare l'altro assessore Gaetano Spano che per quanto riguarda le sue deleghe sicuramente è stato molto incisivo nell'esecuzione del proprio compito. Un altro grande risultato che crediamo di aver raggiunto è stato l'apertura del canile comprensoriale, che da anni si trascinava con una serie di difficoltà, siamo riusciti in questo intento, è un segno di civiltà, un punto di riferimento all'interno del nostro territorio e questo è un ulteriore servizio che è stato offerto. Abbiamo rimodulato quella che è la convenzione della CUC perché non tutti sanno che la comunità montana è anche centrale unica di committenza, quindi il terminale di tutte quelle che sono le varie gare di servizi e di opere pubbliche dei 15 comuni che fanno parte del comprensorio del Vallo di Diano. Abbiamo fatto anche operazioni che sono purtroppo ormai quasi normali all'interno degli enti che è un intervento per quanto riguarda il cambio del turnover, sono state fatte delle mobilità, delle stabilizzazioni, delle verticalizzazioni, sono state fatte delle assunzioni, sono ancora in essere concorsi, e ce ne saranno ancora altri perché credo che un cambio del turnover quando dopo tanti anni persone che hanno lavorato vanno in pensione sicuramente è molto importante. Un'ultima cosa vorrei ricordare, un ringraziamento oltre che ai dipendenti e anche agli operai traulici forestali perché adesso sono rimasti in pochi, sono circa 120 tra OTD e OTI e soprattutto si trovano in condizione anche di difficoltà perché parliamo di persone non più giovanissime. Anche su questo noi siamo intervenuti, abbiamo cercato di implementare nei limiti di legge quelle che potevano essere le forze lavorative, almeno in un particolare periodo dell'anno per quanto riguarda l'AIB, l'antincendio boschivo, e di questo sicuramente voglio ringraziare pubblicamente anche il dottor Donato Natiello come ringrazio tutti gli altri responsabili, Apicali, l'ingegnere Di Zeo, la dottoressa Simone e il segretario dottor Carlo Nimbo. È stato fatto un grande lavoro, tanto altro ci sarà da fare, io voglio cogliere l'occasione per ringraziare tutti i colleghi sindaci che tre anni e mezzo fa hanno riposto la fiducia in me per questo nuovo percorso di questo ente comprensoriale, per me è stato un motivo di grande orgoglio, di grande soddisfazione, ma anche di responsabilità e impegno. Ma come sempre, come mi ha sempre contraddistinto, io questo impegno l'ho affrontato con zelo, con applicazione, con determinazione e soprattutto con compassione, perché credo che chi si affaccia ad amministrare l'arresto pubblica lo deve fare sempre tenendo conto di questi principi e questi criteri. Motivo di grandissima soddisfazione, anche perché Sala Consilina per la prima volta dopo quasi 50 anni ha avuto un rappresentante politico che sedesse sul vertice dell'ente comprensoriale, anche questo per me è motivo di grandissima soddisfazione. Credo che tutti insieme abbiamo fatto un grande lavoro che deve essere proseguito. Ringrazio i miei colleghi sindaci perché in quel particolare contesto non credo che abbiano scelto come Presidente la persona più capace o più competente, ma la persona che rappresentava il punto di equilibrio e che sempre con lealtà, onestà e rispetto nei confronti di tutti ha affrontato le varie problematiche. Non ci sono state mai decisioni prese solo dall'organo esecutivo, ogni decisione è passata attraverso la conferenza dei sindaci e poi si è tramutato in un atto amministrativo che può essere un atto giuntale o un atto consigliare. Questo è un ulteriore motivo di soddisfazione, perché credo che la gestione di un territorio non debba essere fatta solo da una giunta esecutiva, ma deve racchiudere quelle che sono le volontà di 15 comprensori di tutto il nostro territorio. Da 14 siamo anche diventati 15, perché si è aggiunto finalmente anche Pertusa all'interno della comunità montana e nell'ambito del progetto della strategia nazionale interna è molto importante, perché per quanto riguarda il turismo sicuramente le grutte di Pertusa e Auletta sono un punto di riferimento. Ci sono stati grandi risultati, grazie a tutti e io da cittadino sarò sempre a disposizione della collettività, sia a livello cittadino che a livello territoriale, perché possiamo sempre migliorare nell'interesse di tutti.